La Chiesa, a partire da una posizione di povertà e libertà, in relazione ai poteri di questo mondo, deve annunciare con coraggio la legge dell'amore fraterno, la necessità della comunione e della solidarietà tra gli uomini, le inevitabili esigenze della giustizia, la speranza luminosa della vita eterna. Perché Dio, che è al centro della vita e della storia, continua a chiamare uomini e donne, bambini e anziani, dotti e illetterati, poveri e ricchi, per offrire loro a piene mani le insondabili ricchezze del suo amore. Non dovete quindi risparmiare sforzi nel rispondere a questa responsabilità prioritaria, e di tanta trascendenza per il presente e il futuro della Chiesa nel vostro paese. In questo senso dovete sentirvi impegnati, offrendo tutto il vostro generoso contributo, per la formazione migliore di tutti coloro che hanno bisogno di incontrare mio figlio Gesù, perché, nonostante la poca istruzione, essi sanno che mio figlio è la via, la verità, e la vita. Trasmettete sempre la genuina fraternità sacerdotale, affinché i vostri fedeli, si sentano sempre appoggiati nelle loro attitudini ministeriali, e incontrino sempre stimolo per rispettare i propri impegni con Dio e la Santa Chiesa. Non scoraggiatevi mai! Abbiate fiducia! Abbiate coraggio! Senza dubbio sono molte le sfide che dovete affrontare, per far sì che il messaggio salvifico di Gesù Cristo risuoni con più ardore e si renda presente in tutte le case. Conviva speranza nell'amore misericordioso di mio figlio. Abbiate fiducia che tutto questo sorga sotto l'azione dello Spirito Santo, un crescente rinnovo della Chiesa, nelle sue strutture, carismi e ministeri, che la renda più viva, presente e operante, come sacramento di salvezza tra gli uomini. Questo è il mio desiderio, e il desiderio di mio figlio.